Sta diventando sempre più preoccupante il fenomeno TikTok, social network tra i più in voga, tra i giovani e i giovanissimi, in cui si possono trovare delle sfide che, se eseguite inconscientemente, possono portare anche alla morte. E di pochi giorni fa la tragica fine di una bambina di soli 10 anni rimasta soffocata partecipando ad una challenge nella sua casa di Palermo. Nel 2018 il 14enne Igor aveva perso la vita a causa della Blackout Challenge e proprio oggi la Polizia Postale di Firenze ha denunciato una 48enne della provincia di Siracusa per istigazione al suicidio. Sul suo profilo TikTok hanno trovato un video in cui la donna e un uomo si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo da non poter respirare. Il video, visibile a tutti gli utenti, senza restrizioni, possibile oggetto di emulazione da parte dei minori, è stato segnalato e rimosso dalla piattaforma e il pericolo sta proprio qui. Queste immagini possono essere viste da chiunque e ripetute, magari da bambini che utilizzano il social senza la supervisione dei genitori. La voglia di sentirsi grandi e prendere parte alle sfide per poi raccontarlo agli amichetti rischia di rovinare le loro vite per sempre. Scorrendo su TikTok si può incappare in chi si cimenta i numeri da parkour saltando da un binario all'altro, a chi mostra come legare una corda attraverso il collo, a chi inventa punizioni. Abbiamo qua il nostro piccante harissa e il peperoncino in polvere. Facciamo sasso carta forbite. Chi perde mangia un cucchiaio bello pieno. Chi invece si filma mentre mangia un panino in un solo boccone, scrivendo di non imitare, anche se poi si è pienamente consapevoli che non sarà così. Per evitare che si debbano ancora piangere innocenti vite, dal pedagogista piacentino Daniele Novara è partita una petizione su change.org per chiedere che venga vietato l'accesso ai social ai minori di 14 anni. Non si può bloccare la crescita. Hanno bisogno di stare assieme, di socializzare, di incontrarsi, di fare esperienze, di muoversi. E viceversa si pensa che tutto questo possa essere surrogato con la realtà virtuale. Invece addirittura si sono creati dei pericoli. Quello che è successo a Palermo può ripetersi. Il business non può permettersi di giocare con la pelle dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. I genitori vanno aiutati. Prima dell'accesso ci vuole un documento, una documentazione chiara. I social non possono consentire l'accesso sull'autocertificazione. Ogni cosa ha suo tempo. Ma sono buonissimi i ragazzi.